Da Radio Speranza trasmettiamo Geriatria in onda a cura del professor Carlo D'Angelo. Amici radioascoltatori, ben ritrovati anche oggi per una nuova tappa di quelle che sono le patologie dell'anziano. Il medico, il geriatra, parla sempre di malattie, non per incutere timore, per farvi ammalare, ma per farvi riconoscere quelli che sono i segni e prevenire quindi le malattie, per evitarle. Questo è lo scopo principale anche di queste trasmissioni. Noi quando pensiamo alla malattia pensiamo sempre a qualcosa di fisico, la broncopolmonite, la tosse, la febbre, l'espettorato, a qualcosa di doloroso a livello fisico sempre. Immaginiamo una gastroenterite, il vomito, la diarrea. Ma vi sono tante malattie che non si trovano a livello fisico, ma soltanto a livello psichico. Cosa significa questo? Significa che non è il corpo, il soma ad essere colpito, ma è soltanto quello che è il nostro sentire, il nostro essere interiore, la nostra psiche. Non parliamo oggi delle malattie a livello psichiatrico, ma di una forma particolare di patologia che è la depressione. La depressione nell'anziano. Cos'è la depressione? È una sindrome clinica caratterizzata da una patologia, cioè da una malattia dell'affettività, che si manifesta con l'umore depresso, con delle alterazioni anche a livello cognitivo, relazionali soprattutto, con dei comportamenti strani anche a livello somatico. Dobbiamo dire subito che noi medici, noi geriatri, distinguiamo una forma di depressione maggiore, quella che è una vera e propria patologia intrinseca, questo secondo degli organigrammi, degli ordinamenti internazionali, si chiama DSM4, ed è una tabella, un elenco delle varie patologie, dei vari segni riconosciuti in tutto il mondo. Una forma maggiore, vi dicevo, in cui il paziente è depresso, perde interessi nei confronti della vita, perde il piacere di vivere, senza che vi sia qui la presenza di altri segni particolari. Questa è una forma che noi chiamiamo endogena, ma la maggior parte dei disturbi depressivi, delle forme depressive degli anziani, sono invece legati all'uso, ad esempio, di alcune sostanze, alcuni farmaci, soprattutto a disturbi mentali, a fenomeni di adattamento all'ambiente, il paziente che improvvisamente perde un familiare, il paziente che è obbligato a trasferirsi da un luogo all'altro, il paziente che viene ricoverato in ospedale o in una residenza per anziani. La depressione quindi è molto comune fra gli anziani e può portare a un peggioramento della disabilità, può portare a delle invalidità, il soggetto si muove di meno, rimane rinchiuso, rimane a letto o seduto a lungo, e altre volte per degli eventi particolari anche a livello sociale. Immaginiamo il recente caso del pensionato suicida per la famosa banca andata in malora e questa è una forma che parte da una banale depressione, depressione che molte volte è mascherata, molte altre volte il soggetto che comincia a deprimersi e non avere interesse, non essere attivo, sviluppa proprio una depressione mascherata, cioè scarica tutta quella che è la sua depressione e l'ansietà molte volte che è legata, a livello dei suoi organi, ad esempio digestivi, cardiaci, cominciano ad avere delle alterazioni a livello dello stomaco, del duodeno, cominciano ad avere dei disturbi intestinali, è molto importante quindi che il medico possa cogliere questi segni e si coglie in un solo modo, parlando con i pazienti, cosa che oggi facciamo sempre meno. Non basta visitare il paziente, prendere la frequenza, la pressione, sentire il respiro, bisogna mettere una mano sul paziente, sentire innanzitutto un contatto umano, sederci a fianco al paziente, parlare, entrare in sintonia con lui, perché è molto importante riconoscere la depressione. Vi dicevo che le cause possono essere tante, ad esempio non tutti sanno che possono essere anche dei farmaci particolari, i betabloccanti, la reserpina che oggi si usa molto di meno, ma anche dei farmaci che si usano a livello gastrointestinale, ad esempio la ranitidina, la cimetidina, fino anche ad alcuni sedativi, quindi sarà importante in casi particolari consultare il medico quando insorgono degli stati d'animo che ci tendono alla ipotimia, cioè a un senso minore, come se vivessimo in un mondo ridotto, in cui la luce diventa più buia, in cui il sole non sorge mai, in cui non c'è la voglia proprio di vivere, il rifiuto, anche molte malattie purtroppo, pensiamo all'Alzheimer, pensiamo al Parkinson, possono portare delle forme di depressione, anzi molte volte la depressione è il primo segno che compare nei pazienti di Alzheimer e ancora noi medici studiamo quanto possa essere la responsabilità dell'essere depressi in una futura malattia di Alzheimer. Vi dicevo che la depressione coesiste molto spesso insieme all'ansia, tant'è vero che si parla di sindrome ansiosa depressiva, questo costruirà un problema anche per il medico, perché è facile somministrare degli antidepressivi, molte volte è più difficile associare insieme degli ansiolitici. Ma quali sono i fattori più importanti che nell'anziano portano alla depressione? Anzitutto lo stress. Vedete, dopo aver superato gli scogli delle scuole elementari, il superiore, le medie, le lauree, il lavoro, il matrimonio, i figli, quando si arriva a una certa età, bisognerebbe avere il coraggio, anzi la passione, di non avere più stress per quello che ci è consentito dalla nostra vita, dagli eventi esterni, di vivere tranquillamente. Io mi permetto di dire che anche il Papa, ormai non diciamo più neanche Papa, diciamo Francesco direttamente, così come se fosse un fratello di casa, dice siate felici, siete sorridenti, anche a livello generale, ormai non si, io non faccio prediche, e le lascio fare ai nostri sacerdoti, ma non si è più in sintonia con quel paziente cristiano, musone, triste, si va più verso un, non un paziente, quel fedele, ti dovevo dire, ma da me lì ho detto paziente, verso quella persona che sia gioiosa la sua vita, che sia gioiosa di per sé stesso, che abbia gioia nei confronti degli altri, che possa ispirare gli altri fiducia. Quali sono i motivi, vi dicevo, che portano un anziano alla depressione? Innanzitutto l'invecchiamento, che tutti considerano un fatto negativo, e io continuo a ripetere, l'invecchiamento è una fortuna, perché chi non invecchia è morto prima, l'ho detto tante volte, ma poi la perdita, la perdita dell'autonomia, qualcuno che cade, qualcuno che ha una emiplegia, c'è un ictus, quando si perde l'abilità funzionale, quando si perde il ruolo. Ecco, sono molto depressi, dicevo questa mattina una paziente, i militari, soprattutto quelli di alto livello, parlo di grandi ufficiali, i quali giorno dopo che vanno in pensione, non sanno più nel loro regno comandare, e si ritrova a non far nulla. Sono depressi quelli che improvvisamente perdono un ruolo a livello sociale, con il pensionamento, quelli che perdono una persona amata, il cambiamento di una situazione finanziaria, vi parlavo prima del pensionato suicidio, il trasferimento di domicilio, l'essere istituzionalizzati, cioè portati in un ospedale per 10-15 giorni o in una casa di riposo, per gli anziani, tutti questi sono eventi luttuosi, delittuosi in alcuni casi, quando una persona si può assistere a casa anziché portarla a quella che si chiamava una volta l'ospizio. Tutti questi eventi portano ad essere depressi, il paziente comincia ad essere astenico, cioè non ha forza, comincia ad avere insonnia o altre volte dorme sempre, diminuisce di appetito, comincia a perdere di peso, in casi particolari la depressione porta all'aumento di peso, perché il soggetto comincia a mangiare di più, non trova altra soddisfazione nella vita se non quella di mangiare. Anche questa è una patologia. E poi i disturbi del tono dell'umore, la tristezza, il pianto, la manganza di interesse in tutte le attività, il non fare nulla, lo stare seduti su una sedia o a letto aspettando la fine. Questa è la depressione. qualche poeta esistenziale ha scritto anche ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ma questa è la negazione della speranza, dello stare insieme agli altri, del vivere la vita per quello che possiamo nel modo migliore. Chi fa la diagnosi? Al solito la diagnosi di depressione la fa il medico e è molto difficile dire a un soggetto tu sei depresso. Il medico non ha arti magiche, forse con l'età, così come si dice, matura il vino di buona annata, anche un medico di buona annata matura e riconosce già sul volto di una persona con cui parla, quelle che sono le sue difficoltà, le sue ansietà. Noi parliamo di faces, cioè basta guardare una persona per avere un'idea. Ma la cosa più importante per parlare con un paziente, per ascoltarlo, è proprio il colloquio. Il colloquio è indispensabile per individuare uno stato depressivo ed è una cosa un po' difficile, sia perché molti medici non hanno questo modo di relazionarsi, sia perché il paziente anziano ha tanti problemi, ci sente poco, deve farsi ripetere le parole, ci vede male, ha difficoltà anche a dire le sue cose più intime. Ecco, allora, lo dicevo anche prima, il medico deve stare più vicino al paziente anche fisicamente, fare domande con lentezza, con chiarezza, mantenere un ritmo del colloquio rilassato, cercare anche di comprendere, di vedere qual è la mimica, la postura di questo paziente e sentire il suo racconto per porre delle domande idonee. Per sapere se abbiamo la febbre o no, noi mettiamo il termometro per vedere quanto ossigeno è nel sangue basta mettere al dito un apparecchietto per rilevare la saturazione di ossigeno. Anche per la depressione esistono dei metodi scientifici, certo, vanno fatti, vanno usati da chi sa usare, dal medico, dallo specialista, esiste una scala per la depressione con delle domande, dei quiz che si pongono, esiste una scala proprio per gli anziani. La Geriatric Depression Scale GDS la diciamo in italiano non è che questa scala ci dice il soggetto è depresso o non è depresso però ci dà delle utili indicazioni insieme a quelli che sono gli elementi da noi rilevati del colloquio, della facest, dell'aspetto di quella che è l'attività giornaliera del paziente per poter porre una diagnosi di depressione. è molto utile anche avere un colloquio con i parenti più stretti, con i conviventi, con gli amici di un paziente che si mostra depresso anche perché vi dicevo si può capire se del comportamento strano vi sono dei segni che dalla depressione fanno passare l'Alzheimer. Un'altra cosa importante la depressione essendo una patologia si può curare cosa si fa per la depressione si prendono dei farmaci in America la chiamano pillola della felicità noi abbiamo tanti tipi di antidepressivi i vecchi antidepressivi sono sempre meno usati ne abbiamo dei nuovi alcuni anzi di questi hanno azione antidepressiva e ansiolitica questi farmaci vanno usati con cautela perché possono portare problemi a livello degli elettroliti a livello cardiaco ecco perché sarà sempre lo specialista il medico ad indicare qual è il farmaco più utile da usare una cosa che raccomando quando si fa la cura per la depressione la cura non è identica a quella che si può fare per non so per la febbre uno ha la febbre prende un antipiretico prende del paracetamolo della banale aspirina e la febbre si abbassa perché si possa ridurre la patologia a depressione occorre che gli antidepressivi agiscono molto lentamente perché questi vanno a modificare quelli che sono i mediatori biochimici a livello cerebrale e questo non si fa dall'oggi al domani l'altro consiglio per chi è depresso è quello di non isolarsi socialmente frequentare gli altri stare insieme agli altri vivere una vita normale questo perché perché soltanto stando insieme ad altre persone si può riuscire ad aprirsi a parlare con gli altri l'ultimo avvertimento che posso dare è questo il depresso è una persona che sta in una stanza in un angolo però sta in questo angolo guardando il muro e quindi non vede che altro che uno spigolo chiuso basta girarsi di 180 gradi e guardare che ci sono altre pareti altri angoli ci sono altre persone quindi sempre avanti nella gioia con la raccomandazione ancora una volta di Francesco siate lieti e arrivederci da Radio Speranza abbiamo trasmesso geriatria in onda a cura del professor Carlo D'Angelo